Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Giuseppe Torromino alla San Benedettese. Dopo otto giorni di calma piatta con un solo movimento, ma in uscita Lorenzo Emilia Alpineto, la società Rosso Blu lancia un segnale. Dal Livorno ecco l'attaccante calabrese, classe 1988. Stamattina Torromino ha salutato gli ormai ex compagni di squadra. Jolly d'attacco, esterno, seconda punta, rifinitore all'occorrenza vertice avanzato, era a Livorno dall'estate 2021. Ha firmato la promozione dall'eccellenza degli Amaranto con sei gol spalmati su 15 partite. Per lui quest'anno una prima parte di stagione nel girone E di Serie D, un po' sofferta, ancora una volta contrassegnata da qualche problema fisico, bilancio, sei gare, un gol e un assist. In carriera Torromino vanta 55 presenze in B con la maglia del Crotone, squadra della sua città condite da 13 reti e due assist. Ancora 223 i gettoni in C, oltre a 31 gol e 14 assist, con Lecce, Juve Stavia, Ternana, Carrarese, Grosseto e Virtu Sentella. Il 34enne attaccante più volte sfiorato alla Prodo in Riviera, l'ultima nel gennaio 2019 sotto la gestione Franco Fedeli. Intanto domani dalle 10 alle 19 alla Tabaccheria all'Isola del Tesoro di Portodascoli saranno a disposizione 150 biglietti per i tifosi rosso-blu, in vista della trasferta di domenica a Vasto Girardi.